Penultima giornata per Tracce Ebraiche, l'evento organizzato dalle Lammie con il patrocino di Comuni di Matera e Regione Basilicata, un evento che si propone di portare alla luce le profonde antiche radici storico-religiose della cultura ebraica in Lucania e nella città dei Sassi, un'iniziativa che ha assunto dei toni ancora più marcati vista la concomitanza con i tragici eventi di guerra che si stanno verificando in questi giorni in Israele. Prima tappa questa mattina a Matera presso l'Istituto di Istruzione Superiore Dunilevi con l'incontro degli studenti. Questo incontro per me è una cosa molto importante anche nel senso di quello che sta succedendo nel mondo, specialmente la guerra che adesso abbiamo in Israele, per fare vedere che anche nel sud Italia, a Matera, siamo solidari e noi come ebrei siamo uniti al popolo e appoggiamo per la pace, grazie anche a Matera che si sta appoggiando questa solidarietà. Ospite oggi anche il rabbino di Napoli, Meridione Cesare Moscati, che ha visitato la presunta sinagoga ebraica materana, prima dell'incontro a Palazzo del Duca e dell'incontro nella Casa Comunale. Lo abbiamo intercettato, intervistato. Intanto benvenuto a Matera, quali sono i suoi commenti dopo aver visitato questa presunta sinagoga ebraica? Allora, diciamo sinceramente prove a favore o contro non ce ne sono, quindi non c'è nessuna prova che attesti che sia una sinagoga, ma non c'è neanche nessuna prova che attesti il contrario. Diciamo il mio pensiero personale, strettamente personale, non mi convince, non mi convince come una vecchia sinagoga, per vari motivi, prima di tutti non c'è luce, non c'è spazio, diciamo è angusto anche come sinagoga e soprattutto non c'è nessun elemento che possa dimostrare veramente che è. Quali sono i suoi sentimenti in concomitanza con quello che sta succedendo in Israele? I sentimenti, allora diciamo che l'orrore, la tragedia, lo sgomento che ha colpito Israele in primis, gli ebrei e anche tutti gli ebrei diciamo nelle varie comunità del mondo e penso anche che abbia colpito tutte le persone oneste, giuste e con sentimenti morali è indescrivibile. Purtroppo è stato il più grande genocidio di ebrei compiuti in un solo giorno, da dopo la Shoah.